Eroina e Ascish erano invenuti durante un controllo della polizia di stato nel quartiere sondriese della Piastra. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando durante l'attività di monitoraggio del territorio intensificata per i controlli anti-covid il personale della squadra volante della questura di Sondrio ha notato un gruppo di giovani sospetti che si aggirava per le vie del quartiere. Mentre due ragazzi, note le forze dell'ordine, si allontanavano velocemente, i due rimasti sono stati identificati. Ad uno dei due giovani è stato ritirato un coltello a serramanico da lunghezza complessiva di 19,5 cm. Gli agenti hanno effettuato un accurato controllo della zona scovando un involucro con all'interno 32 grammi di eroina e Ascish. La droga e il coltello sono stati sequestrati.